Io coordino i progetti SPRAR di due piccoli comuni dell'area del Bionese, sui comuni Trivero, Valle Mozzo e Pisteghi Mozzo. All'interno dei territori dove lavoro, che sono dei territori che inizialmente hanno presentato delle grosse ostilità rispetto all'accoglienza, in seguito ad una precedente accoglienza a CAS di un ente gestore che non ha lasciato dei buoni risultati sul territorio, abbiamo cercato di impostare con i nostri richiedenti asilo e rifugiati un lavoro di partecipazione, soprattutto all'interno di iniziative sia sul territorio, che non fossero solo di volontariato, ma anche che dessero un'immagine positiva della presenza e dall'altra parte però anche degli strumenti alle persone che accogliamo, quindi formazione on the job, tirocini all'interno dei comuni SPRAR. Mi sono iscritta perché è innanzitutto un percorso che non parla dei centri urbani grandi, ma delle realtà simili a quella in cui lavoro, quindi piccole realtà di montagna o aree rurali che hanno tutta una serie di criticità completamente diverse, di risorse diverse rispetto a quelle che si trovano invece nei centri più grandi, quindi volevo provare a confrontarmi con chi fa un lavoro simile e provare un po' a scambiare delle buone prassi. Sicuramente dei contatti interessanti e poi sicuramente è stato molto utile perché è servito proprio un po' per mettere un punto e fermarsi a riflettere su quello che si sta facendo non solo su quello che si potrebbe fare materialmente ma anche sul senso.